buongiorno a tutti questa è una lezione introduttiva sul grande capitolo dei tessuti connettivi in senso lato notate il plurale perché si tratta non di un singolo tessuto ma di una famiglia molto articolata e anche un po strana di tessuti diversi fra di loro tessuti per esempio che possono essere raggruppati come vedete esistono in realtà molti modi di classificare tutte le varianti di tessuto connettivo questa è solo una delle tante in questo caso io metto in evidenza i tessuti connettivi propriamente detti con una serie di varianti e poi un grande gruppo di tessuti connettivi specializzati e se fate caso in particolare a questi ultimi notate l'enorme differenza fra alcuni di essi per esempio sangue fluido e osso tessuto di sostegno straordinariamente rigido e resistente alle sollecitazioni meccaniche cosa mai possono avere in comune questi due tessuti così diversi tra di loro beh se ci affidiamo al termine tessuti connettivi inevitabilmente ci viene a dire tessuti connettivi connettono però la frase detta così è un po sciocca e sembra essere un po superficiale però vedremo che man mano che entriamo nella descrizione di questi tessuti il termine acquisirà dei significati piuttosto specifici e quindi tornerà a essere utile a un certo punto ora una caratteristica in comune a tutti i tessuti connettivi è una origine embrionale comune tutti questi tessuti derivano dal connettivo embrionale che ha un nome specifico si chiama mesenchima allora vi faccio vedere un esempio di mesenchima il tessuto che vedete in questo momento quali sono le cose principali di osservare si vedono naturalmente numerose cellule dalla forma non particolarmente suggestiva questo è un aspetto interessante su cui tornerò quindi queste cellule si chiamano cellule mesenchimali e sono pluripotenti anche questo è un concetto su cui tornerò fa breve queste cellule sono immerse in una certa quantità di un materiale extracellulare che si chiama matrice e in questo caso nel caso del mesenchima questa matrice è piuttosto fluida molto idratata piuttosto molle quindi ora l'origine embrionale delle varietà di tessuto connettivo può essere raccontato in un modo semplificato sicuramente impreciso ma penso abbastanza significativo allora immaginiamo di avere di essere un embrione e stiamo osservando una zona di mesenchima e immaginiamo di poter magicamente seguire l'evoluzione di questa zona di mesenchima nel tempo ok allora noi potrei possiamo immaginare che in una certa zona di questa regione di mesenchima a un certo punto avvengono dei cambiamenti nelle cellule mesenchimali che portano al differenziamento di questa parte di mesenchima in un tipo di tessuto connettivo propriamente detto per esempio potrebbe essere il derma che è il connettivo che si trova sotto l'epidermine ok in una zona un po' diversa potrebbe avvenire un fenomeno di differenziamento un po' diverso che potrebbe portare a un altro tipo di tessuto connettivo probabilmente detto potrebbe per esempio essere un tendine o ancora in un'altra zona potremmo assistere alla trasformazione di cellule mesenchimali in cellule della cartilagine quindi osservare un'altra varietà ancora e magari o a partire dalla cartilagine o a partire dal mesenchima stesso potremmo assistere all'evoluzione di tessuto osseo infine potremmo osservare la comparsa nel contesto di tessuto osseo di quel midollo rosso midollo emopoietico che è il tessuto da cui hanno origine le cellule del sangue ok ora attenzione perché se è vero che tutti i tessuti connettivi derivano dal mesenchima non è vero il contrario cioè ci sono tessuti che derivano dal mesenchima ma che non sono normalmente trattati all'interno di questo capitolo generale un buon esempio lo vedete rappresentato in questa in questa immagine qui è catturato un momento dello sviluppo dell'arto superiore visibile l'articolazione del gomito e vedete in questa zona questo tessuto in via di formazione è muscolo muscolo ha una derivazione mesenchimale ma non viene trattato non viene considerato almeno sul piano didattico come un tessuto connettivo ok ora però oltre all'origine embrionale ci sono diverse altre caratteristiche in comune fra tutti i tessuti di origine connettivale e questa cosa può essere spiegata in modo efficace facendo un contrasto un confronto con altri tessuti per esempio gli epiteli sono caratterizzati da cellule fittamente stipate fra di loro molto vicine fra di loro anzi per lo più ancorate l'una alle altre con delle giunzioni intercellulari e tipicamente le cellule epiteliali riempiono il volume sia che si trovino in strati che si che anche quando si trovano in ammassi come nelle ghiandole inoltre la morfologia delle cellule ha una precisa rilevanza funzionale per esempio un epitelio pavimentoso semplice come si trova nel rivestimento dei vasi capillari oppure degli alveoli polmonari non può essere sostituito con una cellula batiprismatica come quella del rivestimento dell'intestino tanto per fare un esempio un altro paragone che viene facile da fare è quello con il tessuto nervoso è un altro tessuto in cui le cellule o le parti delle cellule sono molto vicine fra di loro lasciando poco spazio alla all'ambiente extracellulare anche un tessuto dove la morfologia cellulare ha una importanza fondamentale rispetto a questi osserviamo invece tessuti connettivi dove ciò che sembra prevalere sia dal punto di vista quantitativo che come rilevanza dal punto di vista funzionale è la matrice la natura della matrice la sua composizione le sue caratteristiche meccaniche le sue caratteristiche di permeabilità eccetera certo che in tutti i tessuti sono presenti cellule e i connettivi assolutamente presentano cellule ma abbiamo già notato come le cellule mesenchimali abbiano una morfologia non particolarmente indicativa di una funzione vedremo che con qualche eccezione questa è una regola quasi generale nei tessuti connettivi le cellule sono ovviamente fondamentali in particolare sono indispensabili per costruire cioè sintetizzare secernere e assistere nell'assemblaggio extracellulare della matrice quindi dedicheremo particolare attenzione alla matrice a come è fatta e a come funziona per iniziare vi faccio vedere un piccolo campionario di tessuti connettivi guardate in particolare la matrice poi vedremo anche le cellule questo che vedete qui è un tessuto connettivo propriamente detto di tipo lasso questo che vedete qui è un tessuto connettivo propriamente detto compatto è un tendine poi c'è un campione di cartilagine e infine un campione di osso ora per nostra fortuna ci sono alcuni processi di base che sono molto simili in tutte queste varianti di tessuto quindi li descrivo adesso e non ci sarà poi bisogno di ripeterli quando si entrerà nello specifico della trattazione dei singoli tessuti ok in particolare tessuto connettivo propriamente detto cartilagine e osso tutti possedono per lo meno durante lo sviluppo l'evoluzione del tessuto delle cellule il cui nome finisce con blasti il cui mestiere è quello di sintetizzare secernere e assistere nell'assemblaggio extracellulare delle componenti della matrice sono delle fabbriche di estremamente sofisticate molto attive e questo schema che naturalmente molto semplificato mostra però alcune cose interessanti mostra il fatto che la cellula è responsabile della costruzione di tutte le parti della matrice ok e mostra anche che queste parti sono prodotte dalla cellula come piccole subunità costitutive che poi in sede extracellulare si assemblano si aggregano a formare delle strutture molto voluminose relativamente alle misure delle cellule stesse allora ecco una rapida rassegna di queste componenti e dall'alto in basso voi vedete che c'è una parte che è di natura fibrosa fibre proteiche e queste fibre comprendono le fibre collagene le fibre reticolari e le fibre elastiche poi c'è una parte di matrice extracellulare che invece non è fibrosa si chiama sostanza fondamentale ed è fatta da un miscuglio di diverse componenti e io qui in modo un po semplificato ve ne scrivo solo due proteoglicani e glicoproteine vedremo qual è il significato di ciascuna di queste un po più avanti in aggiunta dato che una buona parte dei processi di costruzione della matrice avvengono dopo la secrezione in sede extracellulare è evidente che queste cellule devono essere anche impegnate nella sintesi e secrezione di componenti molecolari che provvedono all'esecuzione di questi passaggi extracellulari quindi una notevole varietà di enzimi tanto per cominciare ora più in dettaglio questi sono questa descrizione generale dei blasti ci sono tre tipi cellulari che utilizzano questo suffisso sono i fibroblasti del tessuto connettivo propriamente detto i controblasti della cartilagine gli osteoblasti dell'osso ora per descrivere le caratteristiche molecolari della matrice extracellulare è molto utile utilizzare un particolare tipo di tessuto connettivo che è il tessuto connettivo lasso perché per sua natura si presta bene a distinguere le varie componenti vedremo però che le stesse componenti sono poi presenti sostanzialmente in tutti i tessuti del grande ombrello ok allora partiamo da questo vedete che ci sono diverse diverse strutture ben colorate in questo preparato istologico nemetossiline osina ci sono naturalmente delle cellule non belle da vedersi si vedono i nuclei si vede qualche volta un pallido citoplasma ma quello che si staglia davvero sono queste questi fasci di qualche cosa di due diversi colori rosa e una tonalità di blu molto scuro cominciamo dalla prima cosa sono queste bandine rosa un po intrecciate che decorano in tutte le direzioni questa è la proteina collagene tenete presente che questa è la proteina più abbondante nel mondo animale ok di di un'importanza stratosferica ed è anche molto istruttiva per tanti ambiti della della biologia quindi qui ci concentreremo per diversi minuti ok il collagene lo vedete qui in microscopia ottica organizzati in fasci di diverso spessore e di diversi orientamenti se andiamo al microscopio elettronico li vediamo naturalmente lo sti il fenomeno con un dettaglio molto maggiore questa è un'immagine molto suggestiva perché qui al centro vedete la cellula che produce il collagene cioè il fibroblasto e rapidamente le caratteristiche di questa cellula vedete c'è un bel nucleo qui con discreta quota di eucromatina e poi c'è un citoplasma abbondante ricco di organelli membranosi potete vedere per esempio mitocondri particolarmente densi agli elettroni ed anche numerose cisterne di reticolo endoplasmatico e soprattutto se guardate la parte destra la parte di sinistra dell'immagine sembra fuoriuscire una certa quantità di materiale extracellulare in realtà questa è probabilmente un'illusione dovuta al piano di taglio ma è molto suggestiva l'immagine si tratta di collagene che laddove al microscopio ottico appariva sotto forma di bande osinofile qui rivela un'organizzazione a livello più intimo che è di tipo fibrillare perché vedete questi sottili filamenti paralleli fra di loro si sottili filamenti paralleli fra di loro del collagene ne vedete anche una discreta quantità nella parte bassa dell'immagine ora la natura fibrillare del collagene può essere messa ancora meglio in evidenza con questa immagine che in qui è visibile un singolo fibroblasto in realtà è una porzione fibroblasto vedete qui c'è il nucleo e questo è citoplasma con organelli e se guardate nel nello spazio extracellulare vedete due porzioni di materiale una in cui sono visibili delle piccole immagini circolari e queste sono singole mio non mio fibrille singole fibrille di collagene sezionate trasversalmente nella parte più vicino alla cellula invece è visibile un fascio di fibrille sezionate obliquamente addirittura per una certa distanza longitudinalmente qui si vede una caratteristica ulteriore ed è il fatto che ciascuna fibrilla presenta una bandeggiatura trasversale c'è una periodica alternanza di gradazioni più chiare più scure nella colorazione nella densità gli elettroni ok questa cosa può essere messa ulteriormente in evidenza con un'immagine a fortissimo ingrandimento queste sono singole fibrille di collagene e qui è ben visibile la periodicità di questa bandeggiatura e comprendere da cosa deriva questa bandeggiatura è un aspetto molto interessante che ci aiuta anche a ricordare come è fatto il collagene questi sono ulteriori esempi qui sono visibili quattro fibrille di collagene che presentano di nuovo la caratteristica bandeggiatura questa è una particolare tecnica di microscopia elettronica allora vediamo i passaggi della produzione di collagene partendo da sinistra andando verso destra la prima cosa che succede che vengono sintetizzate a carico di del reticolo endoplasmatico rugoso tre catene polipeptidiche che si assemblano a formare una tripla elica questa molecola è detta pro collagene e dopo essere passata attraverso il golgi la maturazione e l'esocitosi si trova in sede extracellulare dove avviene un'ulteriore modificazione cioè vengono tagliate le estremità da questa tripla elica il risultato è una subunità che viene detta troppo collagene il pro collagene si trasforma in troppo collagene grazie alla rimozione delle estremità il troppo collagene adesso è pronto per andare incontro a questo assemblaggio da cui origina la fibrilla quella poi visibile al microscopio elettronico e bandeggiata questo schema fa vedere in modo piuttosto semplificato che l'assemblaggio del troppo collagene avviene secondo un ordine molto preciso in particolare le singole subunità di troppo collagene sono allineate una dietro l'altra ma con un gap fra una fra un troppo collagene quello successivo e lateralmente nella formazione di questa di questa fibrilla le molecole di troppo collagene sono sfalzate fra di loro e sono legate tra di loro da dei legami crociati dai ponti trasversali che non sono visibili in questo schema ma che contribuiscono in modo molto importante alla stabilizzazione della della molecola quello che vedete sulla destra è il risultato di un ulteriore a livello di aggregazione cioè quando diverse fibrille si mettono insieme a formare le fibre di collagene il termine fibra collagene un termine caratteristico della microscopia ottica perché le fibre collagene sono poi visibili al microscopio ottico allora questa periodicità e questi gap fra una molecola di troppo collagene l'altro giustificano la periodicità di quella bandeggiatura che si vedeva al microscopio elettronico mentre l'organizzazione generale delle subunità di troppo collagene con questi legami incrociati la loro associazione laterale a creare le fibrille e inoltre l'associazione delle fibrille a creare le fibre giustificano le notevoli proprietà meccaniche del collagene che è notevolmente resistente alla trazione e pur mantenendo flessibilità ora io ho parlato di collagene come di una unica entità in realtà oggi sappiamo che le varianti di collagene sono davvero numerose a partire da associazioni di polipeptidi un po diversi fra di loro la struttura di base poi più o meno la stessa ma le diverse varianti di collagene compaiono in contesti diversi in tessuti diversi e si organizzano in modo diverso questo è un argomento su cui ora non mi soffermo magari cercherò di espandere in un'altra lezione ma vi voglio far vedere due varianti piuttosto interessanti da confrontare le immagini in alto a sinistra rappresenta collagene in cui le fibrille sono associate fra di loro a formare fasci di diverso spessore quella è l'organizzazione che chi fa microscopia ottica chiama tipicamente fibre collagene quello che vedete in basso a destra e viene chiamato dei microscopisti ottiche come fibra reticolare vedete l'aspetto che diverso sono le singole fibre sono più sottili e sono unite fra di loro in come in particolari punti di giunzione creando una rete tridimensionale da cui il termine fibre reticolari attenzione perché sia le fibre collagene che le fibre reticolari sono composte dalla proteina collagene riassumendo le fibre collagene grazie alla loro tenacia la loro resistenza sono paragonabili a una corda una corda da nave una corda da montagna una corda da funivia cioè un oggetto che può essere piegato ma che si estende poco relativamente poco e soprattutto è molto resistente alla trazione le fibre reticolari possono essere paragonate appunto a una rete e vedremo che possono comparire dove è necessario contenere delle strutture mantenere vicine fra di loro per esempio delle cellule creando appunto un delicato involucro accogliente ok allora torniamo alla nostra immagine di tessuto connettivo lasso dopo che abbiamo guardato le fibre collagene adesso osserviamo quell'altra componente fibrosa che è visibile qui con una colorazione molto più densa molto più scura queste sono le fibre elastiche vi faccio vedere un'immagine di fibre elastica al microscopio elettronico a scansione e ve ne faccio vedere anche una versione al microscopio elettronico a trasmissione dove si vede che le fibre elastiche sono in realtà costituite da due componenti principali c'è un cuore una parte centrale che è fatta di di proteina elastina che nel modo in cui si aggrega da una sensazione di essere un po' amorfa cioè non ha la stessa precisione ripetitiva di organizzazione del collagene insieme a questo cuore di elastina poi ci sono vedete delle sottilissime fibrille sono le micro fibrille e fatte di una proteina che viene definita fibrillina per l'appunto vedete in questo schema riassuntivo sono visibili entrambe le componenti e il modo in cui sono interpretate questi due componenti è che l'elastina è la componente responsabile poi della particolare proprietà meccanica di queste di queste fibre e la fibrillina invece tende a guidare la formazione della della fibra elastica che l'elastina si deposita fra un filamento di fibrillina e l'altro tanto che con il passare del tempo con l'invecchiamento la fibrillina tende a scomparire rispetto invece all'elastina che rimane a cosa servono le fibre elastiche naturalmente il termine stesso lo indica in modo molto efficace si tratta di fibre che sono in grado se sottoposte a distensione di allungarsi ok ma quando viene tolta la quando viene rimossa la forza che di che tende a estenderle le fibre recuperano la loro dimensione originale quindi rilasciano l'energia elastica accumulata e ritorno ad avere la dimensione di riposo e questa idea è un po rappresentati in questo schema dove si vedono le singole molecole di elastina in forma rilassata legate fra di loro attraverso anche in questo caso legami crociati che in una poi in una forma distesa come la vedete in basso e poi destinata a riaquisire la forma iniziale allora laddove il collagene è paragonabile a una corda l'elastina la fibra elastica è paragonabile anch'essa una corda mona corda elastica con questa specifica capacità di recuperare la propria lunghezza originale dopo essere stata stirata vedremo che in alcuni tessuti questa proprietà è davvero fondamentale torniamo al nostro connettivo lasso sempre per guidarci nell'esplorazione della matrice e facciamo caso adesso a questa ulteriore componente una componente che in questo vetrino in realtà non è visibile è tutto ciò che rimane bianco dopo aver escluso le fibre collagene le fibre elastiche e le cellule questa scarsa colorabilità è un è un aspetto caratteristico di questa parte della matrice questa parte in realtà è poco colorabile perché tende a essere piuttosto solubile e quindi nelle preparazioni istologiche tipicamente si perde tanto che i microscopisti hanno chiamato questo materiale che ci deve essere ma non si vede sostanza fondamentale amorfa cioè priva di forma in realtà è possibile osservare le componenti della sostanza fondamentale amorfa facendo particolare attenzione nella nella preparazione del campione in particolare si può utilizzare il microscopio elettronico a trasmissione per visualizzare questa questa componente si tratta di molecole di dimensioni straordinarie sono macro molecole che derivano dall'assemblaggio di tante subunità di tante parti costitutive fate caso alla barra di scala per farvi un'idea di quanto sia voluminosa questa molecola nel suo insieme ora guardiamo lo schema centrale e vediamo che un modo per descrivere questo materiale è di far caso inizialmente a quelle strutture lineari viola che sono proteine vedete che da queste proteine emergono o meglio sono inserite su queste proteine delle catene qui rappresentate in verde di particolari tipi di carboidrati che sono i glicosaminoglicani l'insieme della proteina centrale con queste ramificazioni laterali di glicosaminoglicani forma una struttura che si chiama proteoglicano ma vedete che c'è un ulteriore livello di organizzazione perché guardate come tanti proteoglicani si sono uniti fra di loro da un unico asse centrale che è fatto da un altro tipo di glicosaminoglicano che è l'acido ialuronico ok è possibile trovare una metafora anche per la sostanza fondamentale amorfa con queste sue componenti che quella di una spugna molecolare perché l'architettura del dei proteoglicani e degli aggregati di proteoglicani è tale da consentire il trattenimento di una notevole quantità di acqua la sostanza fondamentale amorfa è per definizione idratata e questo è un aspetto davvero molto importante nei tessuti di origine mesenchimale specialmente nei tessuti più lassi più idratati dove la diffusione di nutrienti metaboliti ormoni e altri tipi di segnale è più rapida e deficiente quindi riassumendo abbiamo questi blasti fibroblasti controblasti osteoblasti che sono accomunati dalla proprietà di sintetizzare esse cernere e poi assistere nell'assemblaggio in sede extracellulare di tutte le componenti della matrice e adesso man mano che andiamo avanti e che affronteremo individualmente le specifiche varianti di tessuto connettivo vedremo che le principali differenze derivano da differenze nella qualità della matrice nella ricetta con cui sono con cui è costruita se vogliamo e in senso molto generale vedremo che laddove prevale dal punto di vista quantitativo la sostanza fondamentale amorfa li avremo un tessuto caratterizzato da permeabilità che facilita la diffusione di nutrienti di metaboliti di ormoni di altri tipi di segnale laddove invece abbiamo tessuti in cui è prevalente la componente fibrosa lì avremo a che fare con un tessuto impegnato nel sostegno nella protezione nella resistenza alle sollecitazioni meccaniche ecco quindi che possiamo tornare alla nostra idea iniziale dei tessuti connettivi che connettono perché adesso abbiamo in realtà due modi diversi di interpretare lo stesso termine perché connessione meccanica rappresenta appunto questi principi di ancoraggio sostegno protezione contenimento e abbiamo visto da che cosa deriva questa propensione in termini di organizzazione della matrice laddove invece connessione funzionale più legata a un concetto di diffusione di nutrienti e di altre componenti e abbiamo visto anche qui qual è la particolare ricetta per fare questo prima di chiudere è un osservazione e ho fino adesso parlato di blasti ma fa parte della storia naturale di queste cellule una un'evoluzione cioè a un certo punto le cellule impegnate nella costruzione della matrice extracellulare possono completare il lavoro e e trovarsi interamente circondate da una matrice ben organizzata che non ha particolarmente bisogno di essere modificata e quando questo succede vanno incontro a una trasformazione proprio un cambiamento fenotipico importante da cellule relativamente voluminose con abbondante citoplasma e abbondanti organelli nucleo tendenzialmente chiaro eucromatico diventano invece più piccole con meno citoplasma con un nucleo più compatto e una minore superficie membranosa interna quando avviene questa trasformazione le cellule sono considerate quiescenti si mettono a riposo e allora prendono il nome di citi fibrociti condrociti osteociti c'è una c'è una lunga tradizione di chiamare i fibrociti fibroblasti anche quando sono quiescenti è una piccola discrepanza terminologica che è comunemente riscontrabile in molti libri di test e molte comunicazioni orali e quindi non deve particolarmente sorprendere riscontrabile in molti libri di test e molte comunicazioni orali e quindi riscontrabile in molti libri di test e molte